La celebre Ave Maria, che sarà ora eseguita, risale molto probabilmente al XVI secolo ed è tradizionalmente attribuita al compositore Franco Fiammingo, Jacques ou Jacob Arcadelle, nato nel 1505 e morto nel 1568, che fu anche Magister Pueronum, cioè Direttore del Coro delle Voci Bianche e successivamente Maestro del Coro della Cappella Sistina di Roma. Di Jacques Arcadelle Ave Maria Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.